scopriamo insieme cos'è successo a questo fermentato di rosmarino preparato in data 4 ottobre 2020 cioè due anni e otto mesi fa andiamo a vedere cosa è successo e poi parliamo in maniera un po più dettagliata dei fermentati emana un profumo delicatissimo di rosmarino e si è creata una gigantesca madre un gigantesco fungo caratteristico di alcuni fermentati anzi caratteristico di ogni fermentato praticamente ogni elemento naturale ogni pianta ogni fiore ogni cosa che vogliamo fermentare sviluppa il suo fungo talvolta non sempre questo è un fungo che ha due anni otto mesi è quasi anche un profumo ciò che è liquido si è trasformato con il tempo in una sostanza che in talandia ha un uso secolare e che in italiano è stata ribattezzata con il neologismo fervida cioè fermenti della vita sia il fermentato che il fungo tra virgolette hanno un'amplissima gamma di utilizzi il liquido è un detergente naturale molto potente ma è anche un farmaco che agisce a 360 gradi utilizzatissimo in medicina orientale talmente potente che deve essere assunto a goccia la prima volta una goccia si guarda come va e poi si può aumentare gradualmente il dosaggio attenzione al dosaggio perché può causare problemi intestinali un eccessivo dosaggio e si utilizza per la più svariata gamma di problematiche anche è anche considerato nella tradizione orientale un antitumorale nel caso di questo fermentato preparato con il rosmarino chiaramente avrà assunto le caratteristiche botaniche le caratteristiche farmacologiche del rosmarino che è una delle spezie più potenti in assoluto quindi un antibatterico un antibiotico un antimicotico una pianta che agisce sul cervello sulla circolazione del sangue una pianta disinfettante la pianta utile per tutto l'asparato respiratorio una pianta anche del relax se vogliamo ma quali sono le applicazioni di questo fungo gigantesco che abbiamo un barattolo grosso da 5 kg quindi abbiamo un fungo che pesa sicuramente più di un chilogrammo ecco questo fungo è come potremmo definirlo una qualizzazione di enzimi un complesso enzimatico primordiale una sorta di brodo primordiale che racchiude in sé analisi chimica alla mano per chi l'ha fatta tutti gli elementi costitutivi della vita è un brodo primordiale è una sorta di placenta questo fungo può essere utilizzato in applicazione esterna come crema lenitiva da applicare direttamente sulla pelle sulle scoriazioni sulle problematiche che vale su un fuoco di sant'antonio su la psoriasi come antietà quindi per far ringiovanire la pelle può anche essere assunto previa ovviamente supervisione di esperti o del medico anche se dubito esistano medici in grado di saper gestire la medicina tradizionale orientale può essere assunto anche così com'è con le dovute attenzioni e può essere essiccato e poi polverizzato sugli alimenti un po' come si fa con il parmigiano per essere in salute un fermentato deve profumare e deve avere un sapore leggermente acidulo perché uno dei passaggi uno degli elementi che si ottengono con la fermentazione è appunto quello acetico ma lievemente acetico quindi non bisogna pensare all'aceto di vino che utilizziamo per i condimenti ma come a una componente del fermentato in Italia sono molto rari i prodotti fermentati se si escludono le olive, la birra nella tradizione, nelle tradizioni che vanno dall'est fino all'oriente sono molto più utilizzati ebbene questo è stato praticamente il mio primo fermentato di rosmarino che l'ho preparato subito dopo ha preparato durante un corso che si tenne appunto nel 2020 a Lamporecchio in un magnifico agriturismo che saluto forra a pruno se non erro e che io custodirò attentamente alimentando il fungo quando necessario semplicemente con dell'acqua disorgente o acqua minerale e dello zucchero se deciderò di estrarre il succo per utilizzarlo a scopo medicinale ovviamente come detto prima con un dosaggio limitatissimo metterò il succo in frigo se deciderò invece di lasciarlo con la sua madre quindi questo fungo madre questa madre naturale potrò lasciarlo a qualsiasi temperatura che è rimasto in baracca fino a stamani per tutto il tempo che vorrò perché non è soggetto a decadimento se è coperto di acqua quindi lo lascio qui in compagnia con tutte le altre preparazioni che sto portando avanti tra cui delle acque sacre di cui avrò magari occasione di parlare un detergente naturale con scarti di mila ne approfitto per inviare i saluti a tutti buona fermentazione e buona vita arrivederci